Musica Distraggono un'anziana in giardino, il complice entra e ruba, poi si fingono carabinieri e completano l'opera, bottino da 100.000 euro a San Quirino. FCA cede Magneti Marelli a un gruppo giapponese che non ha stabilimenti in Europa, CISL fiduciosa per il futuro dell'automotive di Tolmezzo. Ottenere certificati, pagare le tasse, richiedere autorizzazione online senza muoversi da casa, regione al lavoro per raggiungere l'obiettivo nel 2020. L'ambiente bianconero è compatto, c'è il Genoa domenica in trasferta per ripartire dopo quattro sconfitte di seguito. Buon pomeriggio dalla redazione di UD News, bentrovati a questa edizione meridiana del nostro TG. Tanto spazio alla cronaca, lo avete sentito nei titoli ma anche alla politica e all'economia. Per quanto riguarda lo spazio ospite di oggi, in studio con noi abbiamo Graziano Corsi, tecnico dell'ERSA. Buongiorno e benvenuto. Per parlare di una nuova certificazione che interessa anche gli agriturismo del Friuli Venezia Giulia, i girassoli. Una certificazione che in Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia, si potrà ottenere anche online. Poi approfondiremo, parleremo bene anche di questo progetto, prima però largo alla cronaca. Anziani ancora nel mirino dei ladri e dei truffatori. L'ultimo episodio nella mattinata di ieri a San Quirino. Vittima una signora di 91 anni che attorno alle 11.30, mentre stava stendendo la biancheria nel giardino di casa, è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha chiesto informazioni sui centri sportivi della zona e su dei venditori di legna da ardere. Distratta, ha dato le spalle alla porta di casa e risposto all'uomo che si è poi allontanato con una Fiat 500 bianca. Rientrata in casa, si è sentita a chiamare ancora da un altro uomo che mostrando un tesserino e qualificandosi come carabiniere, l'ha informata di essere appena stata vittima di un furto. Per essere più credibile, le ha mostrato un portagioie dicendo di averlo trovato abbandonato all'esterno dell'abitazione. Il malvivente l'ha rassicurata, ha detto che i carabinieri avrebbero ritrovato i ladri e le ha chiesto di accompagnarla al piano superiore dell'abitazione, dove tutto era a suo quadro. Evidentemente un complice aveva portato a termine il furto nei minuti precedenti. Lo sconosciuto, simulando un sopralluogo, ha raggiunto la soffitta, la cantina dell'abitazione e ha rovistato ovunque per poi allontanarsi. I familiari dell'anziana al rientro hanno constatato il furto di numerosi gioielli di banconote in euro e in franchi svizzeri per un valore di circa 100.000 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Sacile che rinnovano l'invito a diffidare degli sconosciuti che si avvicinano con le scuse più disparate. I carabinieri, inoltre, sottolineano gli uomini dell'arma, non si presentano mai in borghese per effettuare sopralluoghi e non richiedono mai denaro. Crimini in calo del 2,3% in Italia ma è allarme per violenze sessuali, stupefacenti, incendi e reati informatici. E' quanto emerge dallo studio sulla criminalità nelle province italiane elaborato in esclusiva dal Sole 24 Ore sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina. Per quanto riguarda in particolare le truffe informatiche e le violenze sessuali, Trieste risulta essere la prima in Italia con rispettivamente 482 frodi informatiche ogni 100.000 abitanti più 21% in un anno e 23,4 violenze sessuali sempre su 100.000 abitanti più 67% rispetto all'anno precedente. Proprio questi numeri portano la provincia di Trieste al 28esimo posto nella classifica delle province d'Italia quanto a denunce di reati presentate. Gorizia è 61esima, Udine 84esima, Pordenone è in fondo alla classifica, al posto numero 105, quindi tra le province più sicure d'Italia. Rimanendo a Trieste, continuando a parlare di sicurezza, la Giunta Comunale di Trieste accelera sull'armamento dei vigili urbani. Entro 15 giorni, infatti, la delibera verrà discussa dalla Sesta Commissione Consiliare e nel mese di novembre approderà nell'aula del Consiglio Comunale, dove è previsto che la delibera passi. All'interno della maggioranza, però, Forza Italia frena e chiede alcune garanzie, che l'armamento sia su base volontaria, che venga armato un numero limitato di agenti, che ci sia il riconoscimento di un'adeguata indennità economica e che ad essere armati siano solo gli agenti incaricati di svolgere determinati servizi, quelli più delicati. In base al provvedimento, i vigili utilizzeranno le Glock 17 o 19, pistole semiautomatiche calibro 9x21 mm, dotate di tre sicure automatiche che rendono impossibile esplodere un colpo in maniera accidentale. Entro sei mesi dalla data dell'approvazione della delibera, il personale potrà presentare richiesta di essere trasferito in un'altra area dell'amministrazione comunale. Sindacati moderatamente fiduciosi sulla vendita di Magneti Marelli al gruppo giapponese Calsonic Kansai Corporation, uno dei principali fornitori asiatici di componentistica per autoveicoli. È stato evitato lo spezzatino, dicono, e le prospettive sono incoraggianti per quanto riguarda lo stabilimento di Tolmezzo, che occupa oltre un migliaio di addetti. Sentiamo l'intervista realizzata da David Zanirato a Pasquale Stasio. Sentiamo. Dopo tante voci che si sono rincorse, è arrivata l'ufficialità, Fiat ha venduto Magneti Marelli ad un gruppo giapponese, Pasquale Stasio, della FIM CISL Friuli Venezia Giulia. Come avete accolto questa notizia alla luce del fatto che Magneti Marelli ha uno dei suoi principali stabilimenti in regione a Tolmezzo? Abbiamo accolto la notizia bene, positivamente, in quanto ha scongiurato quella che era l'ipotesi più nefasta, più preoccupante dal punto di vista sindacale, cioè la vendita magari a spezzatino del gruppo Magneti Marelli. In questo caso invece viene venduta in blocco a una realtà importante che opera nel settore automotive. Siamo fiduciosi perché le prospettive dovrebbero essere positive, in quanto l'azienda che ha acquistato Magneti Marelli, quindi Calsonic Cansei, è un'azienda che già opera nel settore di Magneti Marelli, lo fa però in mercati diversi e con prodotti diversi rispetto alla Magneti Marelli. Quindi la possibilità che le due cose vadano a completarsi, a complementarsi, è sicuramente da parte nostra motivo di auspicio positivo e di prospettive buone per il gruppo. Questo potrebbe garantire anche la centralità dello stabilimento di Tolmezzo? Noi abbiamo adesso, ovviamente come organizzazioni sindacali a livello nazionale, chiesto un incontro con i vertici di entrambe le realtà, proprio per chiedere quello che è il progetto industriale e quelle che sono le prospettive occupazionali. Dal nostro punto di vista, ripeto, non ci sono delle preoccupazioni al momento che emergono, in quanto l'acquirente non dovrebbe avere nessun interesse a spostare la centralità dei siti produttivi italiani, in quanto i siti produttivi che oggi ha al suo interno sono siti produttivi solo e esclusivamente asiatici per il mercato asiatico. Quindi crediamo e speriamo che ovviamente la centralità dei siti italiani rimanga forte. Regione e digitalizzazione. Lo scopo è quello di rendere più snella la burocrazia con meno carte e più servizi. Entro il 2020 arriverà lo sportello unico per i cittadini, con i quali si potranno avviare imprese, pagare le tasse e richiedere documentazioni. Se ne è parlato questa mattina in Regione Audine, il servizio di Luciano e Delfonso. Governatore, oggi qui si parla di digitale. Qual è la situazione in Friuli Venezia, Giulia? La grande sfida sarà quella di andare ad adattare i mezzi che ci sono, ormai ci sono tutti, anzi in abbondanza rispetto alle esigenze, i mezzi informatici, ma dobbiamo adattarli e strutturarli rispetto alle esigenze del cittadino. Non viceversa, il cittadino non si deve uniformare la PIA, ma è la PIA che deve creare dei sistemi e dei percorsi che vada incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Per lo sportello unico invece? Lo sportello unico è un valore importante, è una piattaforma attraverso cui il cittadino può arrivare a tutti i livelli della pubblica amministrazione. Oggi questo è possibile per il SUAP, per lo sportello delle attività produttive e noi vogliamo farlo per tutto il resto. Vogliamo per esempio che attraverso un'unica piattaforma che parta dagli stessi canali che utilizza il SUAP, il cittadino possa arrivare ad avere un'autorizzazione per mettere su un'impresa, oppure possa avere una certificazione, oppure possa pagare meglio le tasse, oppure le tasse universitarie dei ragazzi e compagnia bella. Tutte queste cose qui che oggi rendono più facile la vita dei cittadini e che in altri paesi sono già una realtà, lo vogliamo portare qui da noi. E continuiamo con la politica, parlando del Partito Democratico che in Firuli-Venezia-Giulia riparte da Sciaurli con Coppola, vice segretario regionale. Dobbiamo proporre un'alternativa nei contenuti, tornando ad incontrare i cittadini. Questo il messaggio lanciato durante la conferenza stampa di questa mattina dal segretario regionale uscente, Salvatore Spitaleri, affiancato da quello entrante Cristiano Sciaulie e dal vice Paolo Coppola, che a Trieste hanno spiegato appunto la scelta di presentare una candidatura unitaria al congresso del 2 dicembre. Abbiamo deciso di ascoltare i dirigenti e i simpatizzanti, ha spiegato Spitaleri, preferendo l'unità perché dobbiamo fare una opposizione forte ed efficace ad una giunta che non sta facendo nulla. Nulla in materia di riforma sanitaria, che non è altro che un'operazione cosmetica, ha detto Spitaleri, nel settore delle infrastrutture, dove brilla l'assoluto silenzio, così come in campo economico e dello sviluppo. Temi centrali nei prossimi mesi, dove c'è una manovra nazionale che ha tutti i presupposti per una crisi fortissima. Questo esecutivo, Chiosa Spitaleri, ha solo dimostrato la ricerca e la fame di poltrone senza neanche tener conto dei profili di competenza. Dal canto suo Paolo Coppola, che ha scelto di ritirare la candidatura, ha rimarcato che il PD deve rinnovarsi e deve essere un luogo dove tutte le persone possono portare un contributo. Il segretario entrante, Cristiano Schauli, ha voluto ricordare invece l'impegno in Consiglio regionale. Arriviamo, ha detto, da sei mesi in cui la maggioranza, oltre ai reiterati temi dell'immigrazione e temi storici, non ha prodotto nulla ai sindaci e sul futuro degli enti locali. Non ha detto niente, se non vi faremo sapere. Il PD, ha proseguito, Schauli deve ripartire da chi chiede risposte. Dobbiamo costruire un partito di prossimità, creando una classe dirigente in grado di lavorare per il futuro del Paese. E a proposito di riforme, riforme degli enti locali, questa mattina il Comune di Udine, la Giunta Comunale, ha licenziato la delibera che decreterà la morte dell'Uti Friuli Centrale, così come la definita il Sindaco Fontanini. Si tratta del ritorno di tutte le funzioni in capo al Comune, dalla Polizia Locale al Personale, dai servizi finanziari all'organizzazione. I 112 dipendenti che torneranno ad essere trasferiti, sono previste poi una decina di nuove assunzioni per coprire i posti vacanti. Tra le delibere approvate oggi in Giunta, anche i progetti definitivi per l'ampliamento del cinema visionario e il posizionamento di una stele in memoria dei poliziotti uccisi nella strage di Natale del 1998. Voltiamo pagina adesso, ma torniamo a parlare di digitalizzazione. Assieme al nostro ospite in studio, Graziano Corsi, tecnico dell'ERSA, buongiorno, e mi è venuto in studio uno dei referenti del progetto che vede il Friuli Venezia Giulia pioniere in questa digitalizzazione delle procedure per ottenere le certificazioni, i girassoli per l'agriturismo del Friuli Venezia Giulia. Prima di entrare nel dettaglio di questo progetto, io le chiederei sinteticamente un quadro dell'agriturismo in Friuli Venezia Giulia. Quante sono le strutture di che tipo? Dunque abbiamo 670 agriturismi e 350 hanno solo alloggio, altri 120 offrono alloggio e ristorazione e le rimanenti 200 offrono solo ristorazione. Questo provvedimento adesso va a interessare soprattutto tutti gli agriturismi con alloggio e eventualmente con la ristorazione e alloggio. Tutte strutture che fino adesso venivano classificate, diciamo così, attraverso delle margherite, adesso si cambia fiore, arrivano i girassoli e cosa cambia, cosa accadrà? Il Ministero dell'Agricoltura ha stabilito dei criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, quindi per uniformare, per stabilire questi criteri, per fissarli in maniera che l'ospite sa già cosa riceverà o cosa troverà in quell'agriturismo, è stata fatta questa nuova classificazione che tiene in conto del contesto aziendale, dell'accoglienza e gestione e servizi e dotazione degli alloggi. Poi eventualmente anche la ristorazione e la vendita magari di prodotti tipici, di produzioni proprie aziendali. Ovviamente più punteggio si ottiene, più girasoli vengono assegnati alle diverse realtà. La particolarità del Friuli Venezia Giulia è che è la prima regione in Italia ad avviare appunto la procedura per richiedere queste certificazioni online. Anche sul sito del Ministero dell'Agricoltura si trovano tutte le informazioni a proposito. Ecco qua, Agriturismo Italia con il girasole e la procedura di classificazione per le aziende online. Si inizia proprio con il Friuli Venezia Giulia. Siamo i primi. I primi e le aziende interessate cosa dovranno fare? Dunque le aziende interessate devono chiedere un accreditamento al Ministero, collegandosi appunto sul sito, e riceveranno una password via mail e con quella possono entrare nella scheda di classificazione, compilarla e stampare poi una dichiarazione sostitutiva che verrà mandata a noi via PEC all'ERSA e dopodiché quindi si otterranno i girasoli. Il compito dell'ERSA in questo caso quale sarà? Il compito dell'ERSA sarà anche quello di controllare la verificità di queste dichiarazioni e poi daremo anche, daremo noi i girasoli, a meno che uno non voglia farsi la targa da solo. Noi abbiamo già dato queste targhe qui che riportano il marchio e eventualmente nel sito ho visto che si può scaricarsi un facsimile dove si può mettere il nome dell'azienda e i girasoli tutti su un'unica targa ma comunque noi abbiamo preparato anche i girasoli. Il riconoscimento. Ovviamente il compito dell'ERSA come dicevamo sarà anche quello di controllare la verificità di tutte queste dichiarazioni. Grazie a Graziano Corsi per essere stato con noi oggi, noi andiamo avanti con il Tg, apriamo la pagina della cultura perché Vittorio Sgarvi è stato ieri sera l'ultimo visitatore della rassegna d'arte Padri e Figli ospitata a Dilleggio dal maggio scorso dal critico d'arte, ospite di una conferenza stampa in mattinata a Udine, parole di elogio ai promotori e anche le consuete stoccate politiche. Lo ha intervistato David Zanirato. Vittorio Sgarvi l'ultimo visitatore della mostra d'Illeggio, le sensazioni che ha avuto guardando questa rassegna? Beh mi è sembrata più macchinosa del solito e l'ho detto, con quadri non dico meno prevedibili, i quadri non sono mai prevedibili, però certi scelti in un percorso europeo che ingloba Francia, Russia, il tema del padre e del figlio lo puoi recuperare anche solo nella regione, non è difficile, sono temi talmente forti nel mondo cristiano, invece hanno voluto aprire molto, aprire anche nella cronologia perché sono dipinti di pittori accademici o pompier, cioè tra 800 e 900, che sono pieni di teatralità, sembrano delle scenografie, e quindi molte cose non le conoscevo e mi sono sembrate molto efficaci, molto suggestive, molto emotive. Serve a pensare, è una mostra di accompagnamento a una lunga predica sulle responsabilità dei padri e dei figli. A proposito di responsabilità, i figli della politica di oggi non ascoltano gli insegnamenti dei padri del passato. No, appunto, Di Maio è un trovatello, cioè non ha padri, non si capisce da dove viene, non ha, quindi si vede anche che si muove così, è un trovatello che ha avuto culo perché ha vinto la lotteria, ha vinto gli date vince ed è diventato vice premia. L'altro invece ha una, infatti è più abile, adesso non so come siano andati i risultati in Trentino, oggi si votava, ieri sera si votava, però la Lega ha più concretezza, ecco, per tradizione, per formazione politica, con posizioni che molti possono discutere, ma che loro farebbero bene adesso come hanno rinunciato al conflitto con Meridione, potrebbero anche rinunciare a quella componente che sembra di arzismo, perché in fondo aiutare i più deboli nei limiti in cui è possibile. Infatti volevo scrivere oggi che a proposito del caso Lucano che io sostengo, sarebbe bene che Salvini lo ricevesse perché se per caso in quel bettolo c'è qualcosa di buono, può essere utile anche alla Lega. Lo sport adesso per l'Udinese è un momento delicato dopo il quarto K.O. di fila arrivato contro il Napoli. I tifosi però sono al fianco della squadra di Velasquez, chiamata a riscattarsi nella trasferta di domenica a Genova contro il Genoa. Sentiamo Jacopo Romeo. La situazione sotto il profilo dei risultati è sì delicata ma non disperata. La quarta sconfitta consecutiva arrivata contro il Napoli ha di fatti dilapidato il buon avvio di campionato che c'era stato per l'Udinese. Allarme dunque ma non catastrofismo. Inutile fare paragoni con la striscia negativa della scorsa stagione ed evocare fantasmi del passato. Serve la maturità dimostrata dai tifosi sabato scorso, quando la squadra è stata sostenuta ed incoraggiata dal primo all'ultimo minuto. Un chiaro segnale di come l'ambiente sia compatto attorno ai ragazzi di Mr. Velasquez. Il gruppo ha più volte dimostrato di essere solido e unito e allora serve resettare tutto e tuffarsi nella preparazione alla gara di Genova che per l'Udinese, parole del direttore Pradè nel post-gara, sarà la partita della vita. Le difficoltà palesate contro il Napoli, al netto della caratura dell'avversario, dovranno essere messe da parte per affrontare senza alcuna scoria negativa la trasferta di Marassi. Campo sì difficile ma non impossibile, come dimostrato già la scorsa stagione. Certo, di fronte ci sarà un Genoa carico a 1000 dopo il punto strappato alla Juve, prima squadra a riuscirci, e che può contare sul capo cannoniere del campionato, Piontek, ma i rosso-blu restano comunque un avversario assolutamente alla portata dell'Udinese. Testa bassa e pedalare allora per ritrovare la vittoria del bel calcio mostrato in avvio di campionato e lo si ricomincerà a fare da domani con una doppia seduta di allenamento. Domenica da dimenticare anche per la GSA che si è dovuta arrendere a Montegranaro e che adesso mercoledì sarà impegnata in trasferta a Bologna contro la corazzata Fortitudo. Vediamo. Un brutto KO quello della GSA non solo perché il secondo è in tre gare stagionali, quanto anche per le modalità con cui è arrivato. Montegranaro passa al Carnera al termine di una partita strana fatta di strappi, ma condotta per larghi tratti dai marchigiani, bravi a non perdere la testa nel terzo quarto quando Udine sembrava averla riportata dalla sua parte. La squadra di Cavina aveva iniziato bene, subito avanti di sette, di lì in poi però ha pagato il ritorno di una solita Montegranaro, brava ad appoggiarsi su un gioco interno molto efficace con il 68% da due punti e a rimettere in sesto la barca quando nel terzo quarto le tripli di Corbett hanno riportato davanti il sodializio giallo-blu. Percentuale da due punti ha esattamente all'opposto invece per la GSA, ferma da un 19 su 41 senza considerare il 5 su 21 da tre punti con il solo cortese a 4 su 7. Eppure tanti tiri sono stati costruiti in maniera impeccabile ma non finalizzati in una partita a tratti simile a quella di Imola, colminata purtroppo con identico risultato. Inutile fare drammi, la squadra è forte costruita per lottare i vertici. Serve però sbucciarsi le ginocchia per risalire la china dopo la partenza falsa. Mercoledì si torna infatti subito in campo per giunta al cospetto della grande favorita per la promozione diretta, la Fortitudo Bologna, galvanizzata dal successo in trasferta contro un'altra big come Treviso. Servirà una grande partita, una partita da vera GSA. Ascoltiamo anche le parole di coach Cavina Deluso per la sconfitta interna. Siamo forti se giochiamo da forti. Io non credo alle classifiche di settembre, non credo alle classifiche di quelli degli avversari che dicono sempre che siamo i più forti e poi tutte le settimane giochiamo in Eurolega. Io penso che se siamo forti non possiamo tirare con queste percentuali, non possiamo fare tante palle perse, anche se ci fosse un allenatore il più scarso possibile o i compagni o gli arbitri peggiori. Io penso che anche stasera abbiamo fatto errori non forzati, tanti errori semplici, banali. Io dico se siamo forti giochiamo da forti e convinciamoci che se siamo forti dobbiamo giocare da forti. Questo è un po' quello che io dico. Io non credo alle Fanta classifiche o alle cose che dicono gli altri, seppur non è successo questa settimana, nel senso che la correttezza di Cesare Pancotto è ben conosciuta, quindi non faccio riferimento a questa settimana. Però se ci dicono che siamo forti non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo semplicemente giocare al massimo, convincerci che lo siamo e fare le cose per vincere le partite, che sono canestri facili, passaggi facili, difese facili. Guarda, Bologna o non Bologna, a parte che la partita secondo me di Bologna viene a pennello, perché Bologna sta dimostrando di essere forte così come Montegranaro. Dobbiamo giocare da forti perché quello è un fortino dove forse negli ultimi cinque anni hanno perso tre partiti in casa, invento, non so le statistiche, non mi fotte neanche. Però noi se siamo forti andiamo a giocare a Bologna da forti, convinciamoci che siamo forti. Siamo in chiusura, spazio alle previsioni del tempo a cura dell'Osmer Arpa. Noi per il momento ci fermiamo qui, prossima edizione del Tg alle 19. Buon pomeriggio a tutti. Oggi sta fluendo aria fredda e secca da nord-est, per cui abbiamo un cielo sereno, la visibilità in genere è ottima, tranne che nel Tarvisiano dove ci sono nubi basse questa mattina perché ovviamente sposta i venti da nord-est. Sulla costa Bora sostenuta, le raffiche sono già intorno agli 80 km orari a Trieste. Per quanto riguarda le temperature minime si sono ovviamente abbassate, siamo arrivati a valori di 4 gradi in pianura, 11 sulla costa, intorno allo zero per quanto riguarda le valli alpine, la località più fredda è Sappada, meno 1,5, quindi si comincia a sentire un autunno inoltrato. Vento sostenuto anche in quota sulle Alpi, si sentono sulle vette i venti piuttosto freddi. Per la giornata ovviamente ci sarà riscaldamento con il sole, per cui si arriverà probabilmente intorno ai 20 gradi di massima in pianura, 18 sulla costa, 18 anche nell'area di Tolmezzo. Per domani al mattino ancora cielo sereno, poco nuvoloso, poi dal pomeriggio tenderà a velarsi un po' il cielo, per cui dopo una mattinata fresca con temperature ancora piuttosto basse, intorno ai 5 gradi la minima in pianura, intorno ai 10 sulla costa, poi in giornata c'è questo riscaldamento come al solito col sole, si arriva intorno ai 20 gradi, però cominceranno a comparire anche delle velature, velature che dal pomeriggio sera potrebbero essere anche consistenti per strati d'aria che passano a 5-6 mila metri di quota, quindi molto alti, però c'è questa umidità che renderà il cielo non perfettamente sereno nel pomeriggio. Comunque la giornata è bella.